Benvenuti a tutti in questo nuovo video cari amici di VigTech oggi abbiamo tanti pacchi da unboxare ci aspettano tanti nuovi prodotti da testare e andiamo a scoprirli insieme andiamo ad aprire il primo pacco, questo qui in realtà questo già sapete che cos'è visto che è già stato fatto l'unboxing da mio fratello potete cercare il canale youtube Magev vi lascio il link in descrizione andiamo ad aprire il pacco ecco qui che cosa troviamo nella scatola un porta monitor e abbiamo qui il monitor MB169 questo monitor portatile di Asus da 15 pollici e mezzo in full hd 1920x1080 in IPS abbiamo qui il cavetto per collegarlo in type C per collegarlo al nostro computer in modalità esterna andiamo a vedere come è fatto il monitor ecco a voi questo monitor Asus da 15 pollici e mezzo in full hd con uscita type C in questo lato possiamo collegarlo come monitor esterno per un notebook per avere una visuale più grande e più ampia il monitor è molto sottile e molto versatile presto la recensione è dettagliata sul sito di questo fantastico monitor andiamo ad aprire il primo pacco di Amazon vediamo cosa c'è all'interno targato Qmox ecco a voi un piccolo cavalletto tripod della Qmox da tavolo che possiamo montare al di sopra sia una reflex, una fotocamera oppure uno smartphone grazie al supporto che esce in dotazione questo supporto l'ho comprato su Amazon per testarlo e vedere come si comporta presto farò la recensione su VicTech passiamo al prossimo pacco ecco a voi non so cosa si cela all'interno poiché non l'ho ordinato io direttamente ecco a voi un microfono a condensatore per reflex ringrazio chi me lo ha inviato ecco a voi il microfono con una batteria CR2 il microfono ha un'uscita jack da collegare alla reflex presto lo proverò e vedrò come si comporterà passiamo al prossimo pacco ultimo pacco Amazon io già so cosa c'è all'interno apriamo e vediamo cosa c'è all'interno ecco a voi l'action cam DB Power in 4k da 20 megapixel apriamola questa action cam la stavo aspettando poiché volevo tanto provarla ha uno schermo da 2 pollici e 3 touch screen è wifi e ha vari kit accessori con due batterie incluse vi faccio vedere gli accessori eccoli qui e manualistica qui all'interno e altri accessori in un'altra confezione come vi dicevo prima questa action cam ha uno schermo da 2 pollici e 3 che è touch screen qui abbiamo le impostazioni vediamo la risoluzione dello schermo che è in full hd possiamo gestirlo in qhd e ultra hd a 24 frame a 30 frame e in full hd a 60 frame presso la recensione di questa action cam sul sito viktech.net per darvi un giudizio se ne vale la spesa di 110 euro adesso la trovate in offerta su Amazon a 99 euro questi pacchi non vogliono finire più altro pacco come vediamo inviato da aukey apriamolo da come vediamo all'interno della confezione è un microfono a condensatore in colorazione nera e oro con staffa da tavolo un filtro anti pop un filtro per il microfono un cavo jack per collegare il microfono un supporto del microfono per montarlo sulla staffa davvero eccezionale la qualità di questo microfono lo proveremo a questo ultimo pacco apriamolo abbiamo due prodotti all'interno questo ce lo invia nokia e razzer abbiamo qui nokia 8 e le cuffie della razzer della man of war nokia 8 già ve l'avevo mostrato in anteprima all'evento nokia a milano potete trovare il video sulla pagina facebook di viktech andiamo ad aprire la confezione ecco voi il nokia 8 in colorazione silver abbiamo qui manualistica la chiavetta di apertura slot sim cuffie cavo dati type c alimentatore quick charge 3.0 da 9 volt 2 ampere mettiamo tutto da parte il design del nokia 8 è spettacolare unico blocco in alluminio schermo da 5,3 pollici IPS QHD con gorilla glass di categoria 5 4 giga di ram processore snapdragon 835 octa core memoria interna da 64 giga espandibile abbiamo qui una doppia fotocamera principale da 13 megapixel abbiamo una grande funzione chiamata boti che divide lo schermo a metà e mette in funzione sia la fotocamera interna che quella esterna ve lo spiegherò meglio nella recensione completa e adesso passiamo alle cuffie da gaming passiamo alle cuffie da gaming Razer è un nome di qualità per quanto riguarda i prodotti da gaming ecco qui le cuffie sono davvero belle padiglioni davvero morbidi microfono estraibile sono wireless e molto flessibili con il nome sulla parte superiore del brand Razer queste cuffie presto le recensirò sul sito vi ricordo di mettere un bel like al video di commentare e di seguire le nostre recensioni sul sito per questo unboxing è tutto da Vittorio per VicTech.net ciao